Pasta all'uovo, 350 grammi di farina di semola e 150 di farina 00, 4 uova e un goccio d'olio Pizzichetto di sale e giriamo E visto che ieri sono stato richiamato, oggi utilizzerò il matterello per estendere la pasta Come nonna insegnava Nonna diceva sempre, l'impasto è pronto quando il tavoliere è pulito Vedete com'è bello pulito, ha assorbito tutta la farina e la palletta è pronta La sfoglia è pronta Un po' di farina, massaggiatela Prendete il re della pasta all'uovo, lo arrotolate, la sfoglia sul matterello e con le mani allargate verso l'esterno per stendere meglio la sfoglia Nonna diceva che una buona sfoglia viene sempre C'è questo schiocco Vedete? Una volta che le nostre sfoglie sono pronte, come nonna insegnava, si andavano a stendere su un bastone o sul bordo delle serie Questo procedimento serviva per far essiccare un po' la pasta e non farla attaccare al momento della lavorazione E anche per rompere la corda, quindi l'elasticità Io mi sono preparato il macchinario adesso perché per fare le fettuccine o i tonnarelli più velocemente userò questo Però se volete farlo a mano con il coltello, arrotolate la sfoglia intorno al mattarello Senza premerlo troppo Lo sfilate dal lato E poi con il coltello Andate a tagliare, a seconda della grandezza che preferite Ed ecco qui Il guanciale per farlo croccante Qui, quando è quasi croccante, andate ad aggiungere zucca tagliata come volete voi E un po' di scalone E fatela cuocere fino a quando diventa morbida Il guanciale croccante è pronto La zucca si è ammorbidita Adesso, dopo aver aggiunto un po' di pepe Mettete un paio di mestoli d'acqua E fate cuocere Ci siamo Guardate che belle Quando la pasta è rilasciata abbastanza amido Andate a mettere il gorgonzola E continuate a mantecare Facendolo sciogliere Una bella macinata di pepe nero E poi pecorino romano A chiudere Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti